Lavoriamo otto ore al giorno qua nel vigneto, dalle sette del mattino, poi sette e mezza, poi facciamo la pausa a mezzogiorno e lavoriamo fino a sera. Il nostro lavoro è partito dalla potatura e adesso lo stiamo accompagnando a fatto di fiore adesso, abbiamo selezionato i germogli, facciamo polizziamento dei germogli, facciamo cimatura, la zappatura sotto le file delle piante, il taglio dell'erba e l'accompagniamo fino alla vendemmia che verrà a settembre. Avere da fare è un valore fondamentale che ognuno dovrebbe fare e poi specialmente in un ambiente come questo e avere un lavoro da fare è una cosa fondamentale e molto 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 utile per il detenuto che deve passare a scontare la sua condanna, quindi far niente del mattino alla sera non lo ritengo un modo rieducativo. E poi avere ancora la possibilità in un istituto penitenziario di essere qua in mezzo alle piante, in mezzo alla natura è un qualcosa di veramente eccezionale, che posti come questo per i detenuti ce ne servirebbe tantissimi.